ciao, 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 ben trovato, ben trovata sul mio canale Fairy ASMR e grazie per aver scelto questo video rilassante. Oggi sono qui con un video in whispering, quindi un video nel quale parlerò con questo tono di voce sussurrato e con l'incanto di farti attormentare o comunque rilassare. Ti invito a indossare le cuffie oppure gli auricolari come al solito e a scegliere un posto comodo per ascoltare il video in cui puoi distenderti, sederti e in cui nessuno verrà a disturbarti per i prossimi minuti. Ovviamente prima di iniziare e di scoprire il trigger principale del video ti invito a lasciare un mi piace a questo video se l'idea ti piace e se ancora non sei iscritto oppure iscritta al canale fallo proprio adesso cliccando ovviamente sulla campanellina per non perdere i prossimi video rilassanti. Io utilizzerò durante questo video delle fantastiche salviettine per produrre un bel po' di crinkle sounds. Queste in particolare sono un regalo di Luisa che saluto già Luisa. È una fatina di voi molto molto affezionata. ma prima, 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 per sostenere il canale mandiamo un brevissimo spot pubblicitario quindi facciamo il saluto controlla rovescia. Nel controlla rovescia da 5 a 0 ti do la possibilità di abbassare il volume quindi 5, 4, 3, 2, 1, spot. E rieccoci qui. Allora, ho scritto salviettine delicate, umidificate, delicate wet wipes. Sopra ci sono tutti i disegni un po' kawaii e la nuvoletta con la farfallina, due unicorni, un cuoricino, vari fiorellini. La farfallina è reale, un po' po' kawaii più bittorio, dueowne, questeировano, proprio quel domone è fatta, un problema è stato molto affinato. Allora, che tipo, ora Про comincio, lo po' non costruisco, la farfallina, un ruo... rilassa libera la mente, ogni pensiero questa confezione oltre a ricordarmi di Luisa che ce le ha regalate non me le ha regalate perché comunque ho fatto un regalo al canale mi fa venire in mente una letterina che ho scritto non troppo tempo fa perché in questa letterina ho fatto dei disegni nel mio stile uno dei disegni riproduceva una nuvoletta è stata una letterina molto importante per me l'ho scritta con tutto il cuore proprio e l'ho data a una persona importante non so, a volte quando penso al mio modo di esprimere certe emozioni certi sentimenti d'aspetto penso anche a come questi questi sentimenti queste emozioni possono essere recepiti spesso immagino che non vengano compresi al certo per certo che possono risultare addirittura troppo intensi però vale sempre la pena esprimere quello che si è dentro anzi se posso dare un suggerimento oggi è proprio questo nell'indecisione tra il dire o il non dire tra il dichiarare qualcosa di voi a un'altra persona qualcosa che sentite e il non farlo tra l'esprimere un fastidio un piacere e non esprimerli scegliete sempre di scegli sempre di non tradire te stesso te stessa quindi dai spazio a quello che hai dentro lascia l'osservati che Buon appetito? Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Non so se ti sia mai capitato di reprimere un'emozione, magari per timidezza, per timore che fosse illegittima, anche se, tornerò a ripeterlo sempre, le emozioni sono sempre illegittime. Ma sicuramente avrei sperimentato che dopo la repressione c'è stata una frustrazione, comunque quella stessa emozione, quello stesso sentimento, quella parola non detta ha cercato di liberarsi in qualche altro modo. E' così che funziona. Spesso i modi in cui poi si liberano queste parole non dette sono più nocivi che altro. Quindi tanto vale prendersi tutto il tempo per accogliere ciò che si prova e poi comunicarlo. E' quando non è necessario comunicarlo agli altri, comunicarlo a noi stessi, scrivere anche. A te è mai capitato di scrivere un diario? Io ne scrivo tantissimi. Uno dei prossimi video dovrà necessariamente essere un confessionale. Mi ricordo che vi erano piaciuti molto i video in cui leggevo i miei diari di quando ero bambino. Allora ti lascio questi ultimi minuti solo con la suona delle soviette, così questo sarà un video in cui avrò parlato un po' meno. E' un video in cui avrò parlato un po' meno. Spero di averti fatto rilassare. Se è così magari fammelo sapere con un commento, pensiero felice di lasciare qui sotto. Io ti mando tanti, 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 tanti bacini fatosi. E noi ci vediamo come al solito, se ti va, nel prossimo video. Ciao! Ciao!